Cavalcando l'onda di entusiasmo che ha circondato il rilascio di macOS Ventura, ho ascoltato le vostre richieste nei commenti e sono qui oggi per mostrarvi 7 app fenomenali e soprattutto gratuite che non potranno più mancare su tutti i vostri Mac. Vi parlerò di 7 app ben fatte e sviluppate in modo esemplare che mi accompagnano giorno per giorno nello sviluppo di tutti i miei progetti, ma prima di proseguire, come sempre, vi chiedo per favore di lasciare un bel like al video ed effettuare l'iscrizione al mio canale, due gesti rapidi e velocissimi per voi, ma di estrema, grandissima importanza per me. Ma ora andiamo a vedere le 7 app spettacolari da installare su tutti i vostri Mac. Prima di cominciare, doverosa qualche premessa velocissima. Il video, questo video non è in alcun modo sponsorizzato dagli sviluppatori delle app, ma le ho scelte io perché le utilizzo da tantissimo tempo e ci tenevo a condividerle con voi. Durante il video lo vedrete utilizzare su macOS Ventura, ma funziona su tutte le versioni più recenti di macOS. riguardo Aventura invece, ultimamente, nelle ultime settimane, ho portato ben due video. Nel primo vi mostro tutte le principali novità contenute in macOS Ventura e nel secondo vedrete 5 trucchetti, ovvero 5 funzionalità nascoste che faciliteranno l'utilizzo proprio di Ventura. Li trovate per comodità qua sopra in scheda, ma anche sotto in descrizione. La prima, primissima app che voglio mostrarvi oggi si chiama Dropover e come avete capito dal nome si occupa del trascinamento e del rilascio dei file e lo fa in un modo davvero molto molto intelligente. Vi chiedo scusa per la voce bassa, ma ancora stamattina avevo qualche linea di febbre. Spero comunque che si senta bene e che io riesca a spiegarmi comunque benissimo, ma andiamo a vedere Dropover. La prima cosa che faccio è andare ad aprire ovviamente l'app e compare l'iconcina nella barra del menu superiore, ma la vedremo dopo perché ha un modo talmente creativo di funzionare Dropover che adesso non mi interessa. Cosa faccio per farvi vedere come funziona? Apro questa cartella dove all'interno vedete foto, documenti, sfondi, video e voglio spostare alcuni di questi file in questo modo intelligente, quindi scelgo la foto 1, la trascino, ma poi la agito un pochino e compare questa finestrella e rilascio all'interno questo file sapendo che questa finestrella la potrò spostare dove voglio sullo schermo e che sarà sempre in primo piano, quindi sempre davanti a tutte le altre finestre. Adesso voglio allegare anche il modulo PDF che è sempre in questa cartella, quindi lo prendo, lo trascino, lo rilascio all'interno della finestrella e anche questo sfondo, faccio la stessa cosa, lo trascino, rilascio e sono già tre documenti di diverso tipo impilati all'interno della finestrella, ma voglio far di più e voglio allegare anche da altre app, quindi chiudo Finder, apro Safari, mi muovo nella pagina dei miei sfondi, ne apro uno a caso, questo degli sfondi, dei 10 trucchi di foto e voglio allegare l'immaginina di copertina, quindi la seleziono, la trascino sempre all'interno, rilascio e boom! è comparso anche lì, ma posso copiare anche lo stesso indirizzo web o qualsiasi indirizzo web, quindi lo vado a selezionare, tengo premuto, vedete che si è mosso, lo vado a spostare all'interno e avrò copiato anche l'indirizzo web e quindi avrò già sommato diversi elementi anche da diverse app, ma questo funziona ad esempio anche in foto perché se richiamo foto, vedete qua ci sono tutte le mie foto, la finestrella è rimasta in primo piano, voglio allegare ad esempio questa fotografia, la prendo, la trascino, la rilascio lì e automaticamente è comparsa, quindi veramente un modo intelligentissimo ma quando avremo creato questa pila, cosa potremmo fare? Cliccando dove c'è il numero dei file, mi farà vedere tutte le immagini, tutti i documenti e potrò selezionarne uno a uno, altrimenti andando sui tre puntini potrò decidere già da qui di condividerlo ad esempio con airdrop, in mail, in messaggi o addirittura copiare un link di iCloud che verrà generato automaticamente e dove verranno posizionati tutti questi documenti ma altrimenti io posso richiamare una finestra ad esempio di mail, di scrittura di una nuova mail, prendere tutti questi documenti trascinarli all'interno della mail e boom, in un colpo solo avrò trascinato tutti quegli elementi portando l'esperienza di trascinamento e di rilascio all'ennesima potenza sappiate che questa app è completamente gratuita funzionerà in maniera totale per 14 giorni dopodiché vi chiederà di acquistare la versione Pro ma se non l'acquistate continuerà a funzionare nello stesso modo solo che avrete un rallentamento di 3 secondi nella creazione di quelle finestrelle il mio consiglio è provatela, vedete come vi trovate e se poi vi trovate bene, costa veramente pochissimi euro quindi anche per premiare lo sviluppatore potrete decidere di comprarla questa era Dropover ed era la prima app che volevo mostrarvi quest'oggi per l'app numero 2 ho deciso di parlarvi di Encrypto come capirete dal nome si occupa di criptare, di codificare file o cartelle e questo è un argomento che mi avete chiesto di portare tantissime volte nei commenti e lo faccio oggi attraverso questa bellissima app completamente gratuita andiamo quindi ad aprirla e faccio un click vedete che si apre questa finestrella estremamente semplice cosa devo fare una volta arrivati qui? prendo semplicemente una cartella che contiene tantissimi file ho un file unico, ce lo trascino dentro vedete che parte una lavorazione mi chiede solamente di impostargli ovviamente una password che sarà l'unico modo per aprire questa cartella o questo file ovviamente sull'altro computer ci deve essere installato Encrypto ma è completamente gratuito quindi non ci saranno problemi noi andiamo a impostarne una io in maniera molto semplice metto password voi mettetene una complessa potete mettere anche un suggerimento alla password dopodiché farò click su Encrypto e partirà il vero lavoro di criptazione che dura pochissimo ma potrebbe durare anche qualcosa in più se la cartella dovesse essere davvero molto grande e una volta finito ci darà il nome della cartella la dimensione ci dirà dove la vogliamo salvare io la voglio salvare sulla scrivania quindi scelgo desktop, la chiamo cartella e verrà salvata qui vedete che ha l'iconcina e cripto e questa senza quella password che avete scelto prima non si potrà assolutamente aprire ricordatevi che se perderete questa password nessuno mai potrà recuperare il contenuto questa è completamente gratuita si trova sul Mac App Store come del resto anche Dropover quindi una volta scaricata da lì la potete installare su tutti i vostri Mac funziona benissimo, è bellissima molto semplice, andatela a installare subito e anche per l'app numero 3 ho deciso di ascoltare le tantissime richieste che mi avete fatto nei commenti in cui mi chiedevate come si disinstallano le app sul Mac ho trovato la soluzione ideale completamente gratuita che fa al vostro caso andiamo ad aprire innanzitutto l'app che si chiama App Cleaner la vado ad aprire vedete che si apre questa finestrella davvero molto semplice e all'interno di questa finestrella io devo semplicemente trascinare quell'app che desidero disinstallare dal mio Mac quindi riapro il mio disco mi muovo nella cartellina applicazioni che è quella che contiene tutte le applicazioni che abbiamo installato e voglio disinstallare per esempio questa app quindi la prendo direttamente da lì e la trascino all'interno della finestrella dopodiché chiudo la finestra e mi fa vedere dove è posizionata in questo caso c'è solo l'app ma se ci fossero anche svariati altri file posizionati ad esempio nella libreria ve li mostrerà facendovi vedere in questo spazio anche i mega che andremo a risparmiare vi ne faccio vedere un'altra ad esempio vado sempre in applicazione prendo un'app decisamente più grande che è Final Cut Pro lo trascino all'interno e vedete che nel caso di Final Cut compaiono proprio quei percorsi che sono nascosti e che non si vedono e mi fa vedere che in questo caso c'era addirittura un giga e 15 che non avremmo rimosso semplicemente cancellando l'app una volta selezionata l'app o tutte le app che voglio disinstallare farò un clic su rimuovi e quest'app spariranno completamente dal nostro Mac liberando spazio e risorse preziose l'app è completamente gratuita e come per tutte le altre app troverete il link per scaricarlo qua sotto in descrizione e arrivo così all'app numero 4 che si chiama Later che in inglese significa più tardi ma tra pochissimo capirete perché andiamo innanzitutto ad aprire l'app eccola qui una volta aperta vedrete che compare questa sua iconcina nella barra del menu superiore ma per farvi vedere come funziona devo aprire diverse app quindi apro Safari apro le note apro il calendario e apro magari anche foto vedete che se mi muovo nel mio Mission Control me le fa vedere tutte potrò selezionare quale usare diciamo che a un certo punto in un certo momento devo concentrarmi specificatamente su un'app o un'altra attività quindi vado nell'iconcina di Later e gli vado a cliccare Save Windows for Later altrimenti potrò fare un comando rapido che è Command più maiuscole più L ma adesso faccio clic guardate cosa succede boom sono scomparse tutte non ha chiuso le app ma le semplicemente nascoste facendomi spazio sul desktop quindi eh dandomi la possibilità di fare focus su un'altra attività ma la cosa fantastica è che se rivado sull'iconcina potrò anche e fare clic su Restore Session o altrimenti Command maiuscole R e guardate boom sono tornate tutte al loro posto eh anche Later è davvero semplice da usare come avete visto potentissimo è completamente gratuito e come per tutte le altre app vi lascio il link qui sotto in descrizione scaricatelo perché eh vi farà veramente concentrare molto di più sulle attività che dovete svolgere e giungo così all'app numero 5 che si chiama Shooter o Shooter non lo so pronunciare bene ma è uno di questi e due che si occupa di fare degli screenshot ancora più intelligenti eh potenziato anche dall'intelligenza artificiale e che non potevamo fare su macOS nativamente per prima cosa richiamo l'app la apro e qui mi compare una finestra di benvenuto che vado a chiudere vedete che è comparsa la sua iconcina nella barra del menu superiore da cui potrò scegliere di catturare tutto lo schermo di catturare solo una parte un'area dello schermo di fare uno scrolling in cattura quindi una cosa veramente figa di riconoscere anche testi o QR code ma mi interessa eh fare lo screenshot di un'area quindi avrò ad aprire le impostazioni di sistema apro la finestra del mio Apple ID e vado a dirgli eh cattura area vedete che è cambiato il cursore mi metto attorno alla finestrella scelgo una porzione rilascio e boom è comparsa eh lo screenshot vado a ingrandire un po' la finestra così da farvela vedere meglio zoomo anche un pochino e qui vedete che c'è una lunga barra eh di strumenti e quello che ci interessa aver selezionato è crop e select perché potrò andare a selezionare solo una porzione all'interno dello screenshot quindi voglio scegliere un una scritta perché la voglio cancellare dal testo andrò eh a selezionare quindi tengo premuto ci vado attorno rilascio e vedete che si è circondata a questo punto qui in alto c'è un pulsantino che si chiama eh erase cancella lo scelgo e vedete che è scomparsa magicamente la scritta andandosi a fondere completamente eh con lo schermo ma posso anche per dire eh dirgli eh di fare far sì che il testo venga in blur cioè sfocato e regolare addirittura eh il pixelaggio quindi sapete quando magari dobbiamo mostrare delle cose c'è una nostra scritta personale come magari un numero di telefono e un indirizzo email e non vogliamo che si veda in questo modo lo possiamo fare ma diventa ancora più intelligente perché se vado a ingrandire la selezione che ho fatto prima e la sposto anche nell'immagine vedete che se vado a dirgli erase quindi cancella cancellerà anche l'immagine ma altrimenti erase text cancellerà solamente il testo mantenendo l'immagine questa è una cosa veramente estremamente comoda se dovete preparare delle slide o fare delle presentazioni dei tutorial mantenendo privacy nei vostri dati ma posso fare ancora di più perché se ad esempio vado a selezionare il pulsantino eh del counter cioè del contatore andandomi a mettere in una posizione comparirà un numerino ad esempio uno qua due tre quattro e via così ed è un modo davvero semplice se dobbiamo attirare l'attenzione di chi sta guardando eh quello screenshot a determinati argomenti la cosa bella è che potremmo in qualsiasi momento selezionando quell'elemento andargli a modificare anche l'immagine la grandezza vedete in questo caso e perché no anche il colore fra diversi preset eh già impostati ma c'è una funzionalità ancora comoda questa abbastanza nerd come cosa riguarda addirittura le dimensioni in pixel e le distanze in pixel e qui sfrutta proprio l'intelligenza artificiale perché se clicco eh sui righelli eccoli qui qui mi dice che dovrò tenere premuto uno o due sulla tastiera mentre mi muovo sul mouse vedrete che se tengo premuto uno mi dirà la distanza in punti pixel e dall'alto alla prima finestra se mi muovo all'interno di questo campo mi farà vedere l'altezza che c'è ma se premo due mi fa vedere invece la larghezza di qualsiasi eh finestra in cui mi muovo in quel momento vedete che prende le distanze in maniera iper intelligente e ci sono tantissime eh altre cose che potete fare con quest'app eh quindi vi invito a scaricarla perché come tutte le altre è completamente gratuita il link lo trovate eh qui sotto e creerete eh degli screenshot veramente all'ennesima potenza e siamo arrivati all'app numero 6 che si chiama Imajopteam che io personalmente adoro e utilizzo da tantissimo tempo perché si occupa di prendere grandi immagini comprimerle per farle pesare meno e questo è utile a chi è per esempio a un sito web e le vuole uploadare sul sito quindi devono essere il meno pesanti possibili ma magari anche condividere e quindi occupando meno banda in invio o altrimenti come storage andiamola ad aprire per vedere come funziona la finestra è davvero molto semplice vedete che si è aperta e qui non dovrò far altro che trascinare all'interno l'immagine che voglio comprimere legge praticamente tutti i tipi di immagini quindi richiamo la mia cartella e qui c'è sfondo andiamo a vedere innanzitutto quanto pesa sfondo facendo command D mi dice che sfondo.jpeg pesa 4,1 megabyte direi che è un pochino troppo per il mio sito web quindi la voglio andare a comprimere cosa faccio prendo sfondo e lo trascino all'interno di image opt-in boom guardate è stato velocissimo l'immagine è passata da 4,1 megabyte a 117k salvando il 97% di spazio se vado a riaprirla e l'andiamo a vedere facendo un aprivio vedete che la qualità è rimasta comunque elevatissima quindi direi ottimale per un sito web la cosa molto interessante è che facendo un click sul rotellina qui in basso potrò andare a scegliere quelli che sono i livelli di ottimizzazione delle immagini jpeg delle immagini png o delle immagini gif se per caso a volte mi escono comunque troppo grandi andando a variare questi indicatori verso il basso occuperanno ancora meno spazio l'app come tutte le altre è completamente gratuita e sono convinto vi servirà tantissimo e sono giunto passo dopo passo all'ultima app della giornata la numero 7 che si chiama Haze Over e qua devo fare una precisazione perché quando la scaricai la prima volta era come tutte le altre che vi ho mostrato quest'oggi completamente gratuita ma ho notato che è diventata a pagamento con un costo di 2,49 euro facciamo così se siete d'accordo guardate come funziona e poi potrete decidere se acquistarla o meno secondo me ne vale la pena perché aumenterà tantissimo il focus che darete alla vostra attività quindi cosa faccio vado ad aprire innanzitutto l'app Haze Over eccolo qui e compare come sempre nella barra del menu superiore la sua iconcina che se clicco mi mostrerà tutte le varie impostazioni ma soprattutto vedete questo regolatore che potrò selezionare da 0 a 100 facciamo così però prima di modificarlo vado ad aprire una finestra quella del finder vedete che la luminosità del display è sempre equilibrata in tutte le sue parti ma se vado a prendere Haze Over e sposto verso l'alto l'indicatore vedete come rilasciandolo si abbasserà tutto quello che circonda l'unica finestra su cui stiamo lavorando quindi permettendoci di avere un focus decisamente migliore nella nostra attività se in qualsiasi istante vado a fare un click sullo sfondo torna chiaramente anche lui più luminoso ma se ricomincio a lavorare sul finder vedete che si è scurita e questo posso portarla ancora a un livello maggiore fino addirittura al 100% che porterà al nero tutto il resto ma mi sembra un po' eccessivo direi che verso il 50 55% come faccio io è un livello più che accettabile per mantenere un focus veramente pazzesco sulla nostra attività ma se vado ad aprire un'altra app cosa succede? vedete ho aperto note ha portato sul nero anche il finder quindi dandomi maggiore controllo maggiore focus sull'app note nelle sue impostazioni potrò anche vedete se vado su impostazioni usare dei gesti sul trackpad se abbiamo un portatile ma anche decidere il colore dello sfondo se averlo nero o in un'altra tonalità la velocità dell'animazione e soprattutto scegliere come comportarsi se per qualche motivo usiamo monitor esterni quindi regolare sia il monitor del Mac portatile ma anche quello esterno ed è secondo me un'app che vi assicuro la sto usando da diverso tempo mi ha portato a lavorare meglio concentrandomi molto di più sull'attività che dovevo fare vedete voi se questa app vale 2,49 euro dal Mac App Store quindi comprandola lì poi la potrete installare su tutti i vostri Mac decisamente per me gli vale tutti queste erano le 7 app che volevo mostrarvi questa oggi spero che abbiate trovato in una di queste o magari in più di una un'app che cercavate che potrà fare al caso vostro perché aumenteranno tantissimo il livello di produttività di creatività ma soprattutto miglioreranno la user experience a bordo di macOS vi chiedo scusa se per la voce ho fatto un po' fatica e non è entrata come di solito avviene ma la febbre ha fatto il suo corso quello che vi chiedo io adesso è di venire in numerosissimi qui sotto nei commenti per dirmi che ne pensate delle 7 app che vi ho mostrato se già le conoscevate o sono tutte nuove se le installerete essendo tra l'altro praticamente tutte completamente gratuite insomma vi aspetto qui sotto per sapere il vostro pensiero quando passate da lì l'unica cosa che vi chiedo come sempre è quella di lasciare un bel like al video ed effettuare l'iscrizione al mio canale prima di salutarvi vi ricordo ancora una volta che tutti i link per scaricare le 7 app sono qua sotto in descrizione noi ci vediamo presto prestissimo qui sul canale con tantissimi nuovi video un grande saluto da Francesco ciao 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 ciao